Oggi, partiamo da oggi, partiamo da un'offerta, ripeto, che va dai ragazzi alla fiction, alla cultura, all'informazione. Questa offerta, ripeto, non ha uguali al mondo e quindi bisogna ripartire da qua. Bisogna valorizzare, raccontare meglio, far emergere tutto quello che la RAI è e fa. Dalla cultura, ripeto, all'offerta per bambini, all'intrattenimento, alla produzione di fiction e cinema, per i quali siamo leader e diamo un sostegno fondamentale all'industria italiana.